ciao ragazzi questa è la versione ps3 la juventus su fifa 18 ps3 allora prima cosa che c'è da dire è che non si inizia come con il nuovo inizio come su playstation 4 e nintendo switch cioè sopra la next gen ma su ps3 si inizia come il vecchio con il vecchio i guai in grande paolo di bala manzucic farò quasi tutte le squadre alessandro chiellini benetia lich steiner è già luigi buffon questa è la juve su ps3 grazie 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 grazie